Musica Grazie a tutti. 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 Secondo posto sudatissimo, ventesimo alla partenza, secondo all'arrivo, direi una bella soddisfazione Francesco. Grande impegno, grande fatica, però ne volevano la pena. Tanta fatica, però ho buttato al vento con uno start così pessimo per colpa, vabbè, di certi, ma comunque bisognava essere davanti là. L'ho sbagliato dall'inizio, poi ho fatto una gara in salita, però un po' di ramarico c'è perché vedevo gli ultimi giri e andavo più forte. Infatti ho visto che giravi su uno 34 basso, però diciamo che è accassibile il campionato, nulla ha cambiato. No, no, quello no, ok, però la soddisfazione personale di vincere anche questa match è sfumata. Grazie a tutti.